2002, no, 2002 no, probabilmente sta facendo un casino sempre per la storia del tuo polizio fiscale. Sì, 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 fantastico, bravo, cosa fai, fai un salto qui nel pomeriggio, sì, no, dico, fai un salto, ok, va bene, io tanto sono qui, ok, sono in ufficio, chiamami, potente 5, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.